e ora attenzioni perché il tempo è veramente strettissimo a 60 secondi nessuno dei piloti che l'hanno receduto è receduto nel tempo e ora vediamo che cosa ci va a un cuore incredibile guarda come mi piace veramente è una grande non si concede assolutamente prego guarda due spostamenti fatti in maniera precisa pronto a prendere un po' di ritorno per avere un grande campione del mondo quello di questa sera qui a Milano non ha assolutamente niente da perdere ma fa la sua grande professionista un vero professionista del Tria come sono i suoi direi interessari sta facendo veramente alla grande signori qui abbiamo un fenomeno delle Tria della Mondia che è così che si va alla grande a Milano a Milano a Milano a Milano a Milano a Milano di un po' di ritorno al Vimano a Milano a Milano che spettacolo questa sera è un nuovo lavoro che c'è la gara è un grande emozione come le stesse fanno con questo Fonacicriere con il Domenico con il Domenico con il Domenico e con la sua contesa e con il Domenico